La prima partita che faccio insieme a questi ragazzi, comunque sono tutti amici, mi fa piacere stare nella loro squadra e quando sono libero è un onore giocare con loro. Speriamo che stasera iniziamo bene, la squadra avversata è una buona squadra, li conosco, divertiamoci, mocca a lupo. Buonasera, siamo qui di nuovo da dopo tanti anni a fare di nuovo questo torneo e speriamo di arrivare fino in fondo. Bocca a lupo. Bocca a lupo. Bocca a lupo. Bocca a lupo. Grazie a tutti 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 Avete giocato bene Peccato per il gol preso alla fine prova E' stata una partita combattuta E' deciso soprattutto da episodi e ci andrà bene Poi piano piano ci dobbiamo abituare ancora Siamo diciamo nuvi in questo campo Però come prima partita va bene così complimenti a tutta la squadra Gigi una dedica finale La dedica la voglio fare a Crescento che mi ha portato con lui nella squadra E i soliti Luca Izzo, Luca Megali, Antonio Raiola E un'altra dedica la fa lui che già so chi la vuole fare Allora voglio fare una grande dedica a un nostro grande capitano Che è diventato anche un grande papà E che questo bambino ha veramente avuto la fortuna di avere dei grandi genitori Un bacione Capitano Salvio Sanzone Grazie 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 Grazie